Mi piacerebbe partire dalla Napoli di sopra e di sotto che è raccontata dalla penna di Elena Ferrante però poi è vista dallo sguardo... Ma che fai con le domande degli altri? Ah, l'hanno già domandata. Un secondo fa. Ma mi dispiace ma... Ma adesso scherziamo. Perché mi sembra che questa città viva di due facce come la storia. Ci sono due realtà in questa storia, c'è la realtà del tuo personaggio ma c'è anche la realtà di Vittoria e ci sono anche due città. Beh, mi sembra che in tante città ci siano questi due aspetti solo che questa c'è la proprio sotto forma di clessidra. Cioè ha una parte che scorre verso l'altra e poi basta ricapovolgere e sembra che si perda un po' il punto di partenza dell'uno e il punto d'arrivo dell'altra. Cioè ci sono due realtà che in quegli anni si sono andate contaminando e c'è stata una lotta che si è nascosta dietro la politica, dietro le occupazioni, dietro i centri sociali e che hanno trasformato quindi proprio visivamente quella Napoli di sopra che era la Napoli bene, di via Petrarca, del Vomero, nei Camaldo Limeno e poi via scendendo dalla parte di sotto verso la stazione Salvatore Rosa fino a scendere giù a San Giovanni a Teduccio il Pascone per poi invece ritornare da sotto nella zona di Mergellina adesso sto facendo un po' da tour operator di Napoli ma è solo per dire che sono dei mondi, quelli della Napoli di sopra e Napoli di sotto che sono due facce della stessa medaglia in questo tipo di contesto cinematografico in cui viene raccontata la mia città Credo che la geografia di questa città sia anche legata al tema poi fondamentale della serie tutta e del romanzo che è come dire sopra e sotto ma è anche bugie e verità in qualche modo dove è il confine? Qual è il confine in questo caso? Qual è la strada di confine che determina la Napoli di sotto e quella di sopra? In questo senso anche se pensiamo alla bugie e la verità è questo e lei comincia a scartavetrare tutto il mondo intorno a sé ma ci riesce attraverso una bugia se vogliamo per cui è molto complesso stabilire il proprio confine Come l'acqua calda e l'acqua fredda Sì, esatto Lo stesso rubinetto però, no? Lo stesso rubinetto, esatto C'è una scena secondo me molto bella che ti vede protagonista quando il tuo personaggio parla della traduzione di un romanzo di cui si sta occupando ma nessuno l'ascolta eppure è in un contesto in cui la cultura sembrerebbe invece essere il pane con il quale loro vivono, no? Secondo te perché non viene ascoltata? Non viene ascoltata perché le cose vere annoiano forse questa è la verità almeno in quella casa per cui l'autenticità di un desiderio dell'espressione di un desiderio è piuttosto noiosa mentre invece l'espressione di un certo tipo di decoro in qualche modo borghese viene visto come un formale e quindi in qualche modo da rispettare e quindi da ascoltare L'adolescenza è la ricerca anche della propria identità Giovanna ha bisogno di specchiarsi in vittoria per capire un po' da dove arriva anche lei e di scoprire le bugie e la fallibilità dei propri genitori credete che sia un percorso naturale per diventare di rompere quell'incanto? Beh in questo caso è un po' troppo precoce penso che ci sia una grande fretta in questo romanzo beh è chiaramente un film possiamo affrontare però ho come la sensazione che quello che viene somministrato dall'autrice e quindi anche dal regista alla povera Giovanna sia un po' una specie di capro ispiratorio di vittima sacrificale che l'autrice utilizza per poter precocemente toccare immediatamente tutti i sali tossici tutta la tossicità dell'adolescenza e risolverla apparentemente attraverso un confronto con gli adulti che poi tale non è come poi la serie dimostrerà L'ultima domanda è il confronto con Giordana alla sua prima esperienza è eccitante, stimolante per voi mettervi accanto, a fianco a qualcuno e mostrargli non so, come muoversi per la prima volta? No, devo dire che secondo me è un po' il contrario è sempre per noi stimolante lavorare con una persona che non lavora di maniera non fa questo mestiere perché in una logica soprattutto in una cinematografia come quella di Edoardo dove come dire il diktat è togliere piuttosto che aggiungere in qualche modo invece per noi è terapeutico avere a che fare con una persona che invece è totalmente scarno scevro da tutte quelle che sono delle sovrastrutture attoriali che non solo ad Edoardo non piacciono ma per esempio personalmente neanche tanto a me per cui in realtà paradossalmente è un training molto interessante più per noi che per lei grazie mille grazie a te arrivederci grazie grazie a te grazie a te